Il teatro del Giglio punta sui giovani con il nuovo cartellone per la stagione ragazzi che è stato presentato durante una conferenza stampa dal presidente del teatro Aldo Casali, dall'assessore Letizia Bandoni e da Cataldo Russo, il responsabile proprio del teatro riservato ai giovani. Un cartellone composto da 25 rappresentazioni dedicate ai più piccoli, compresi tra i 4 e i 16 anni. Del cartellone vengono proposti appuntamenti come la leggenda del coniglio volante, i tre piccoli lupi e il grande maiale cattivo, Pippo Petti Rosso, Dore mi fa so la si su, l'orchetto e molti altri appuntamenti, tutti allestimenti pensati per i giovani ma anche per le loro famiglie. Qual è la risposta da parte dei ragazzi? Il teatro piace ancora? Il teatro piace molto perché è una forma alternativa ai modelli predominanti di comunicazione. La risposta c'è come presenze, noi ci attestiamo di media sulle 6.000 presenze l'anno per questo cartellone che per un teatro come il nostro rispetto a quelle che sono le statistiche nazionali è un grandissimo risultato. Attraverso la sollecitazione dei ragazzi, attraverso le scuole, attraverso una formazione che avvicini i ragazzi al teatro potremmo avere gli spettatori attenti anche negli anni futuri. Il teatro del Giglio lavora per questo. L'assessore alla cultura del comune di Lucca, Alessandra Bandoni, ha sottolineato come queste iniziative rivolte ai giovani, alle scuole e alle famiglie rappresentino una grande risorsa per avvicinare le giovani generazioni alla cultura e alla magia della scena teatrale.